Ciao, un breve video per spiegarti le tre nostre possibilità di pagamento Abbiamo fatto tre possibilità perché vogliamo dare a tutti la possibilità di usufruire del sistema Misaki Quindi, prima possibilità, acconto 40%, un secondo acconto del 50% a merce pronta, poco prima di montare gli infissi E gli infissi, ti ricordo, è l'ultima cosa che viene montata in un'abitazione e poi un 10% dopo la posa in opera Oppure, la possibilità due, che è per chi vuole risparmiare, quindi un acconto del 90% iniziale e sempre un 10% dopo la posa degli infissi Con questo tipo di soluzioni avrai diritto ad uno sconto del 5% sul totale dell'importo E poi la possibilità tre, dove l'acconto lo possiamo decidere insieme Quindi, che cosa vuole dire? Potremmo fare un acconto anche solamente del 5-10% E tutto il resto lo paghi a iniziare da 30 giorni dopo la fine dei lavori Come lo paghi? Lo puoi pagare Solitamente abbiamo questa promozione attiva di 20 mesi a tasso 0 e TAI 0, quindi completamente 0 Se fai un lavoro di 20.000 euro per capirsi, 22.000 euro, 2.000 euro da conto Rimangono 20.000, diviso 20 sono 1.000 euro al mese Oppure potresti fare fino a 120 mesi con tasso agevolato Il tasso, dipende dall'importo della durata, potrebbe essere un 5-6% È comunque favorevole, quindi è la possibilità Con sconto e senza sconto A conto piccolo, a conto medio, a conto grande Se vuoi lavorare con il sistema Bisacchi, hai tutte le possibilità per farlo Ciao Ciao